E' bello a tutti ragazzi e bentornati in questo primo video Oggi andremo a spacchettare due pacchetti fuori e volanti Ehm, bene, allora Io ho il gestino Mi prendo le quasa Mega Evoluto Io ho Mega Vasos Iniziamo 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 No, iniziamo No, no, te sì Vabbè, iniziamo io Il codice lo farò vedere Ehm, se lo abito Grazie Un pesante Fleccendine Altaria Altaria Wingull Beh, anzi Pikachu Inkay Meo Banco E' già esci Olo Che figata Io non ci capivo più qual'era Lei è mezzo Che non ti capisci Questo c'è il pesce Un codice si fa vedere C'è il mio No, no, nessuno, nessuno Perché Perché io faccio la collezione I codici Jack E Com'è il trigger? 3, 2 3 3 davanti No, basta, basta Aspetta, aspetta Dove è? Dai, no, no Senti se è rubido Dove? Rubis, no Vai, vai, vai Su No, no, io devo vedere Campo aereo Lo sai che le carte sono i 15 Ninjas Doostox C'è qualcosa È rubido Come è qua? Eh, lascia Pa, va, va Eh, l'elettrica Tei Tilo Epsedus Ma non è che era l'allenatore Epsedus Epsedus Aluciov Aluciov Campo aereo Gira Mi regalati Mi regalati Mi regalati Senti Mi regalati sul l'articare mio Eh L'adio Mi può vedere Andiamo Ehm Per oggi Eh È tutto Con i nostri video Cioè Con i nostri video È tutto Adesso vi porteremo penso un altro video sempre dei pokemon con le disegnerie furie volanti no dei pokemon ma di o zelda o basket o calcio oppure anche pokemon gco gioco a carte online no non posso si che puoi e poi come si chiama e poi pokemon duramente e da matteo e pietro è tutto ciao